Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre e come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, trovate il link qui sotto in descrizione. Dunque, oggi sono qui per fare insieme a voi la trailer reaction di The Kingsman, il film prequel della trilogia di Kingsman. Hanno infatti deciso di far uscire questo film prequel a cavallo tra il secondo e il terzo capitolo che dovrebbe chiudere ufficialmente la saga. Dopo aver visto i ritorni dei personaggi in Kingsman The Golden Circle nel 2017 scropiremo quindi le origini di questa organizzazione segreta di uomini sempre ben vestiti perché ricordatevi che i modi definiscono l'uomo. E direi di cominciare subito con il trailer, le origini, in italiano ne è stato aggiunto The Kingsman, le origini perché fa sempre bello, è sempre comodo aggiungerci un le origini quando è un film prequel. Direi di partire. In zona di guerra. Nel corso dei secoli la nostra gente ha saccheggiato, ingannato e ucciso. Finché un giorno ci siamo ritrovati nobili. Nel Rasputin. Ma quella nobiltà non è stata frutto della cavalleria. È figlia della tenacia e della crudeltà. Il vero potere non lo trovi andato in guerra. Voldemort. Il vero potere sta nel capire chi è veramente il tuo avversario. E come può essere sconfitto. Figata. L'attentato di Sarajevo? So che vuoi combattere, ma ci sono altri modi per compiere il proprio dovere. Il doppio petto. Ah, figata. Figo. Non si capisce tantissimo. E grazie a Dio, dato che solitamente i trailer spoileranno tutto, sapremo come è nata l'organizzazione dei Kingsman. Sembra essere parecchio interessante. Quello, se non sbaglio, sembra, credo che sia l'attentato di Sarajevo, quello che poi ha fatto scaturire la prima guerra mondiale. Ma non ne sono sicurissimo, anche perché si vede un frame di mezzo secondo. Sono curioso di vedere le origini dei Kingsman, perché mi hanno sempre incuriosito. Mi è sempre piaciuta come organizzazione segreta. Molto british. Tutti stilosi. Tra l'altro fumetto, che è stato quello che ha dato il via alla saga cinematografica. Che praticamente riprende il primo film. Io vi consiglio di recuperarvelo, perché è veramente figo. Mi aspetto delle belle scene d'azione. Scene di combattimento molto fighe, dato che sia il primo capitolo che il secondo erano state di livello. Nel primo c'è la scena bellissima con Colin Firth, che ammazza tutti dentro la chiesa. Che secondo me è impareggiabile. Ed è una delle scene d'azione più belle finora nella storia del cinema. Voglio vederlo. Sono curioso, ma ancora più di questo. Attendo poi il terzo capitolo, che terminerà le avventure dei principali protagonisti. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto. E noi, come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!